Musica Ciao ragazzi, sono Dan3DN e benvenuti in questo nuovo video avviso Oggi ragazzi torniamo su un video avviso molto importante perché devo farvi degli avvisi sulla nuova serie GTA e anche su FIFA Ma prima di iniziare ragazzi devo ringraziare JGadz per avermi dato il suo microfono Che è questo qui, è il Trust, aveva fatto una piccola recensione sul suo canale che vi do a passarci E' qui e poi casomai in descrizione se volete passarci dopo Comunque lo ringrazio perché lui da amico me l'ha dato visto che non lo usava più Qui ha un altro microfono e lo dato a me, quindi io questo qua lo dato a me, quindi io vi lo ringrazio E devo dire che ha un buon rapporto qualità-prezzo, infatti costa 15 euro, è una qualità media Infatti mi sentite abbastanza bene, no? Però non è, diciamo, non è la qualità Giriamo un po' da bluietti, quello proprio pesante che costa 200 euro, non mi ricordo quanto costa ora Però è un buon microfono quindi se siete dei youtube emergenti come me ve lo consiglio Ma non ci vediamo in chiacchiere, passiamo subito agli avvisi di oggi Parliamo di GTA ragazzi Infatti la serie di GTA che l'anno scorso, cioè che prima facevo con Matt Ora non ci sarà più con Matt Perché GTA continuerà a esterci sul mio canale Ovviamente, giusto che sia perché a me GTA piace molto e quindi continuerò a farlo Però in questi mesi e anche forse nei mesi a seguire Non avrete GTA con Matt Ma questo perché lui si deve comprare la Play 4 e vende la Play 3 Cioè dà anche la Play 3 così per pagare di meno la Play 4 Quindi non avrete più GTA con Matt GTA 3 comunque con JGLADS, MESCLOS e SHADOX Che è un altro mio amico che sta aprendo un canale Infatti non ho potuto linkarlo perché non ha ancora aperto il canale Quindi non ho il link del canale, non posso Però caso mai dovesse aprirlo a breve lo troverete in descrizione Vabbè, quindi farò la serie di GTA con questi tre E vabbè, con MESCLOS già avete visto un episodio Ovviamente un episodio che faremo sarà L'episodio che faremo ragazzi saranno anche incentrati su alcune cose tipo le gare oppure i deadmatch Settimana prossima uscirà un episodio di gare credo Quindi ragazzi iscrivetevi ai due canali e anche al mio così seguite la serie E parliamo ora di FIFA Infatti già vi ho detto che MESC deve comprarsi la Play 4 E infatti faremo FIFA 15 sulla Play 4 sempre insieme Sopre su Ultimate Team Verso che cercheremo di vincere la divisione 1 Come abbiamo fatto quest'anno con FIFA 14 Non abbiamo in mente ancora la squadra da farci Perché abbiamo scoperto, grazie a Nave Ci ha detto Nave, abbiamo scoperto che comprarsi i crediti su FIFA 15 Possiamo dire che è illegale Cioè possono dirci che è illegale Se da FIFA 15 in poi forse sarà illegale Quindi noi avevamo un'idea su che squadra farci subito forte Però ci hanno subito levato quest'idea Perché ci ha detto che sono illegali Però comunque poi dovremmo vedere che il gioco ancora non è uscito Quindi non possiamo dire niente di sconfermato Potrebbe uscire un video prima dell'uscita di FIFA 15 E dovrebbe essere il 25 settembre Se non sbaglio, poi correggetemi voi Perché ho la demo e quindi potremo fare un video su quella Ma comunque avrete la serie di FIFA a ottobre Che da inizio ottobre Perché... Deve riuscire il gioco ovviamente Quindi ragazzi Per oggi è tutto Io vi lascio a riassunto Io vi lascio a... Non so parlare Vi lascio a riassunto Ok, già mi è comparso qui Ci sono i video di Spider-Man Il video di Skyrim E se c'è qui qualche altro video Lo vedete linkato Ora non mi ricordo tutti i video Vi do il tempo per scegliere i video Se non avete visto nessun video E ora finisce il tempo Comunque Io vi invito a lasciare un commento Mi piace di iscrivervi al canale A mettere mi piace alla pagina di Facebook In descrizione Iscrivetevi anche i canali Di cui... Che ho citato prima Sono sempre in descrizione Ma 3DN è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao